Vuoi dare a Mario? Che devo dare? Non ricordo più Il microfono Ah già, vero, non l'ho messa Ecco Mario allora E allora Mario complimenti Uomini soli Facciamo un plazzo anche a lui Dobbiamo stringere perché Stringiamo Appor No, 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 no Ma quanto uccro? Marma, ju Appor Appor In conti dove la gente piace fare telefonare, con topo barba che sta di pioggia e la ventipagione, per tuttire il corriere della sera, mi mamma mia di una mica me verà, ma perché ogni giorno viene sera, o che un uomo entra solo perché in testa stranitaria, perché ha paura del sexo, per le mani di successo, questi veneri romanzo che ha di dentro, perché la vita ha già messo al muro, o perché un mondo falso, il uomo vero, vive nelle città e delle immensità, è vero che ci sei e viaggiato con noi, vediamo se si può imparare questa vita, e magari un po' cambiarla, prima che ci cambi lei, vediamo se si può farci amare come siamo, senza voler darsi più, ogni nocce e tutte nocce, perché questa vita stende, sono uomini soli nella sede d'avventura, perché ha studiato da prendere, o per vent'anni di Alena, che madri, che non gli hanno mai pensati, che ha studiato da prendere, 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 e delle immensità, è vero che ci sei e viaggiato con noi, vediamo se si può imparare queste donne, e cambiare un po' per loro, e cambiare un po' per noi, ma più delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi come noi, po' giù non siamo in cielo, questo è un uomo perversino, questo è un uomo solo, è bravissimo anche il nostro Mario! Grazie!